Nessuna soluzione definitiva per il depuratore di Santa Maria di Mare. Il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, risponde così all'interrogazione del consigliere di minoranza Vito Caldievo che ha chiesto al primo cittadino Lumi sull'impianto che quest'estate ha dato non pochi problemi a residenti e non. Il depuratore funziona, le acque che ne escono sono pulite, ha detto Aieta. Il problema si annida nelle quattro nuove stazioni di sollevamento. Da lì si sprigionano i cattivi odori. Allora ecco il prossimo passo che farà l'amministrazione. Abbiamo un piano B che è quello di riportare all'impianto di sottocastello i collettamenti e nel frattempo capire come ovviare a questo inconveniente. Un inconveniente che ci sta rendendo la vita difficile, un inconveniente per il quale io ho istituito un coordinamento tecnico fatto da due ingegneri, un architetto e due geometri. Un problema che ci sta vedendo impegnati quotidianamente. Si cerca un rimedio quindi. Aieta non nasconde che nei mesi scorsi sono state percorse tutte le strade ma nessuna di queste ha portato ad una soluzione definitiva. Le abbiamo provate tutte. Abbiamo provato attraverso anche i consigli del progettista, direttore dei lavori, il quale a un certo punto ha alzato le mani. Stiamo pensando a questo punto di investire un consulente, un docente universitario per capire se il problema è rappresentato dal profilo idraulico dei collettamenti. Infine Aieta ha voluto rispondere anche a coloro che continuano ad alimentare polemiche. Non faccio il capopopolo, ne voglio cimentarmi con chi alimenta polemiche, è giusto per alimentarle perché porta con sé l'odio e il veleno verso di me o verso la mia giunta. Io rispondo ai cittadini, rispondo ai consiglieri comunali e rispondo con il lavoro, non con le chiaccere.